un saluto dal vostro Pierluigi Pardo con me oggi in posazione c'è Stefano Nava per commentare insieme questa sfida ben trovato Pierlu vedo l'ora che l'arbitro dia il via alla gara sono sicuro che ci divertiremo Coppa che inizierà a breve squadra che puntano a migliorare la propria posizione per qualificarsi va di testa e non è finita occhio al tiro tutta la sua rabbia per l'occasione mancata anch'io sarei molto arrabbiato abbastanza comprensibile Tirlo c'è spazio per andare balla in area il cross non era male ma nessuno è riuscito ad approfittarne si avvicina all'area attenzione al tiro e c'è il gol palla in mente hanno aperto le marcature con questo gol uno a zero passaggio intercettato Valotelli c'è il laccio sulla fascia ottimo intervento del difensore Pirlo ottimo intervento c'è la regola del vantaggio e dunque si va avanti giusta decisione palla in palo laterale Pirlo hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centro campo palla recuperata azione interrotta azione interrotta baragna metri palla vagante adesso Di Maria bravo a intercettare questo pallone non era facile con questa palla e punta la porta prova a far partire il tiro tirato malissimo pallone che finisce sul fondo buono l'appoggio palla recuperata dagli avversari sfuma dunque l'azione d'attacco perde palla buono il lancio smarcante si ripartirà con una rimessa dal fondo sventa qui la minaccia buono il cross portiere sulla traiettoria nessun problema occhio al suo movimento palla riconquistata con un'ottima chiusura passaggio sbagliato palla in out palla che esce tush rimessa laterale hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati Di Maria palla girata sulla corsia attenzione al movimento dei compagni conquistano un buon pallone al centrocampo di Maria grande parata super portiere lo ferma ma non controlla chiude bene il triangolo palla riconsegnata agli avversari tirlo ci sono metri a disposizione la manovra interrotta senza problemi tirlo tirlo perdono il pallone arbitro che assegna il calcio di punizione ecco che ci viene riproposta la parata di prima bel tiro gran bel tiro ma il portiere ha risposto da campione ha perso il pallone ha perso il pallone punta l'area comoda uscita del portiere Werner c'è il tocco al proprio portiere c'è spazio per andare grande chiusura difensiva il quarto uomo esibisce la lavagna tre minuti di recupero balotelli buon possesso palla cercando spazi asamoa arriva il tischio dell'arbitro sarà punizione squadra ospite sta provando in tutti i modi a fermare a sconciurare la rimonta della squadra di casa anche con delle continue perdite di tempo e ovviamente i tifosi di casa non apprezzano l'arma a sconciurare E' tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui ad Old Trafford. Palla recuperata, azione interrotta. Occhio cerca l'area di rigore. Nessun problema per la difesa che recupera. C'è il tocco prudente sul portiere. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Splendida la giocata. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Occhio al traversone. Quagliarella. Era una buona occasione per pareggiare, ma l'hanno fallita. Palla che esce, sarà paro laterale. Werner. Werner. Spezzato bene qui il gioco avversario. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Ha deviato il pallone in out e concedendo la tush, la rimessa laterale. è riuscita a interrompere la trama con un buon intervento. perdono palla. Occhio al suo movimento. Palla che termina oltre la linea di fondo. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Un altro appoggio sbagliato, non sembra in grande giornata. Guadagna metri verso l'area. Ha il pallone del pareggio. Grande contrasto qui. Può scambiare con il compagno. Cercano col tiki-taka il momento giusto. La mette in area. Palla recuperata facilmente dalla ripesa. Ci sarà la rimessa dal fuoco. Asamoa. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Valotelli. Buon recupero del pallone. Possono ripartire. Punta l'area. Ottima la lettura difensiva. c'è il movimento dei compagni. Perde palla. Si avvicina all'area. Buona lettura del difensore. Quagliarella. Troppo centrale qui davvero per impensierire il portiere. Mancano 20 minuti alla fine. Palla larga. Ecco il darlo sul possesso palla. L'importante ovviamente è non quanto hai il pallone ma come lo gestisci Stefano. Esatto Pierre. Eh sì. Ci sono squadre che fanno del possesso palla il loro punto di forza ma che arrivano pochissime volte al tiro. Al contrario ce ne sono altre che preferiscono lasciare l'iniziativa agli avversari ma che sanno ripartire meglio ed essere più pericolose là davanti. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Prova con la testa. Ancora un quarto d'ora da giocare. Palla in fallo laterale. C'è spazio per andare. Perde palla sul pressing del difensore. Cross impreciso. Di Maria. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Baragna-Vetri. E l'arbitro lascia. Attenzione potrebbe anche arrivare un cartellino. Il recupero sul pallone. Arbitro che ferma il gioco e assegna il calcio di punizione. È arrivato il cartellino a punizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi. Non accenna nemmeno una protesta. Lo svantaggio è minimo ma il vero nemico adesso per i padroni di casa rivetta il cronometro col tempo che passa inesorabile. Gli unici a crederci sembrano solo i tifosi che non smettono di incitare la loro squadra. Complimenti. Ci sono metri a disposizione. Contrasto riuscito alla che rotola via. Può servire un compagno. Ottimo recupero del pallone. Occhio al traversone. Occhio a questo calcio di punizione. Ha rischiato l'intervento di scivolata ed è andata male. Qui il fallo c'è tutto. Lo hanno visto tutti. Troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è accorto. Esce e recupera il pallone. Ancora tre mesi. Intercettano bene i palloni. Si chiude così dunque solo uno a zero questa gara. Escono dal campo con una sconfitta al termine di un match giocato un po' sottotono rispetto al loro standard abituale. Sì, oggi non mi è sembrata la squadra pimpante che siamo abituati a vedere. No, 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 no. Hanno accusato forse il calo fisico nel secondo tempo. Beh, ci sta. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.